Se lei dovesse scrivere una letterina a Babbo Natale per chiedere qualcosa a Babbo Natale per la città di Bassano, cosa chiederebbe caro Babbo Natale? Sicuramente serenità e dopo giustizia, basta, penso che sia sufficiente. Penso che Bassano ha fatto tanto, giusto? C'ha già tante cose, quello che in più ben venga, adesso pensare cosa avere, felicità per tutti. Più sicurezza, più agibilità per le strade, perché ci sono dei tombini per esempio aperti, ho già segnalato questo e io che vado in bicicletta è un pericolo. In Viale Venezia te lo posso già segnalare e vedo dove c'è l'angarano. E poi un po' più di eventi in centro, essere un po' vivibile. Niente perché la vedo già bella, com'è? Io chiederei intanto anche per Bassano, prima di tutto serenità, ecco, quando si va per le piazze vedo che non sono aggredita, se voglio faccio spese, se no passeggio perché è sempre bello. Magari qualche addobbo in più natalizzo anche, sì, e qualche anche casetta in più perché non ce ne sono molte, ecco, tipo anche paesi che sono anche, non so, Bolzano, così, Merano, anche qualche casetta in più, sì, sì, sentire un po' più di Natale per questo periodo e poi naturalmente ci sarebbero altre cose, ma magari in altri momenti dell'anno. Chiederei qualcosa per me, per la mia famiglia. Non per Bassano. Tenendo in considerazione la famiglia, la famiglia fa parte comunque della comunità, ecco. Tanta serenità. A Bassano. Eh, una bella cosa. Beh, tante cose che avevamo. Un fiatino di viabilità più... Esatto. Quello sì. Quindi una viabilità più scorrevole, chiederei. Sì, 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 sì. Un po' più di pulizia, levare un po' di mendicanti, troppa gente che ti ferma, ti mette le mani addosso. Tranquillità e che tutte le cose vanno bene. Bassano del Grappa, che termina il ponte. E che cosa chiederebbe per la città di Bassano del Grappa? Non so che finisse il ponte invece qua, perché ormai è tanto che va avanti. Adesso i gari cominciano i lavori. Ecco, insomma. Lei chiederebbe questo? Sì, e dopo assaiuto per tutti che avevano bisogno.